Eccellenza e promozione scendono in campo in questo weekend, caratterizzato dalla neve e dal freddo. Il Cervinare va in casa della Virtus Avellino, una sfida sulla carta bellissima. Fida armonico contro Iuliano, due allenatori bravi che fanno giocare al top i loro team. Ci sarà da divertirsi al Renzulli. Cercasi disperatamente, punti salvezza in casa carotenuto. Contro il Salernum, se non è l'ultima spiaggia, poco ci manca. I rossoneri di Russo devono gioco a forza strappare i tre punti per continuare a sperare nella salvezza. Anche Leioni contro il Faiano in trasferta dovrà cercare di bissare l'ottimo punto strappato a Vecchequenze. Per Caruso si tratta di un test e verità, anche perché i leonesi sognano il sorpasso in classifica ai biancoverdi di Sarrapica. Solufra da Agropoli, dopo la scopola del Gallucci contro il San Marzano, i concerti di Fiume partono nuovamente sfavoriti, ma il match di Sarno dell'andata, proprio contro la corazzata di Fabiano, testimonia che Giallo Blè possono mettere lo sgambetto ai delfini di Turco. La neve stoppa il final è la partita tra Montemiletto e Giffonise Casali. Il match dovrebbe recuperarsi adesso mercoledì 1 febbraio alle ore 15. In promozione altro test sulla carta favorevole a Bellizzi Irpino di Dimieri, che dopo le vittorie su Città di Avellino e Pietrelcina attende l'ultima della classe a Bellino di Marcello De Stefano. I Verde e Fucsia vogliono tornare ufficialmente tra le big del campionato. Gesualdo ad Apice per l'impresa e Granata ci hanno abituato bene durante questo campionato, ma spesso e volentieri inciampano sul più bello. A San Vitaliano in Città di Avellino per provare a salvare la stagione, di fronte alla compagine di Mister Di Martino, che è una delle formazioni più belle da vedere. I napoletani con un eventuale successo chiuderebbero il discorso salvezza. A bello fatto il Baiano dovrà cercare di superare la crisi contro il Ponti e Granata di Caruso. Vorrebbero tornare a festeggiare una vittoria, successo che manca in casa mandamentale da tanto troppo tempo. Dopo la gara delfina non si giocheranno neanche i savignanese, forse coraggio del durante di Savignano e Bisaccese Sporting e Pietrelcina, perché a Bisaccia, secondo i rumors, sul manto erboso ci sarebbero 30 centimetri di neve e di ghiaccio.